James Connolly è il più importante rivoluzionario marxista irlandese di fine ottocento inizio novecento nasce nel 1868 a edimburgo da una famiglia di immigrati irlandesi molto umile tant'è che vivevano in una sorta di ghetto di baraccopoli abitate esclusivamente da irlandesi in quegli anni l'immigrazione irlandese in Gran Bretagna era molto importante tutta la rivoluzione industriale è stata alimentata in Inghilterra in Galles in Scozia dall'afflusso di grandi masse di proletari dalle campagne dalle città irlandesi di cui si occuparono anche marx ed engels in alcuni loro scritti importanti per esempio la situazione della classe operaia in Inghilterra di engels la le condizioni economiche molto gravi in cui si trovava la famiglia di connolly inducono sia lui che suo fratello a che uno dei suoi fratelli a ruolarsi nell'esercito britannico e nel caso di james addirittura falsificando diciamo la sua età reale all'età di 14 anni e viene mandato guarda caso proprio in Irlanda che in quegli anni era attraversata da enormi scontri sociali in quella che viene chiamata la guerra agraria uno scontro di classe asperrimo che si svolgeva tra la classe dei latifondisti e cioè dei grandi proprietari terrieri e quella dei fittavoli che erano la maggioranza dei contadini che coltivavano la terra pagando un fitto un affitto alla ai proprietari che spesso non erano neanche presenti diciamo nelle terre di loro proprietà quindi si limitavano magari a dublino o addirittura a londra a intascare una rendita senza fare assolutamente niente questo scontro è estremamente acuto e vede varie forme di lotta come lo sciopero del degli affitti come anche delle vere e proprie diciamo minacce violenze di vario tipo violenze che ovviamente erano c'erano da entrambe da entrambe le parti proprio mentre si trova lì a fare servizio militare con lì si avviene per esempio il massacro di michelstown nel 1887 in cui vengono uccise diverse persone dalle forze dell'ordine britanniche stanziate nella città durante una una protesta dei fittavoli naturalmente l'irlanda in quegli anni è sotto il controllo della gran bretagna che di cui fa parte in maniera integrale le lotte dei fittavoli si manifesta anche con delle battaglie legali con occupazioni di terre con il boicottaggio anzi lo stesso termine boicottaggio nasce da uno di questi casi il boicottaggio era una sorta di ostracismo che veniva fatto ai danni di chi partecipava all'accapparramento delle terre in qualche misura per esempio questo charles boycott da cui prende il nome il boicottaggio era un agente fondiario che in qualche modo aveva partecipato aiutando i latifondisti ai meccanismi di ridistribuzione delle terre a favore del latifondo con lo sfratto di di alcuni fittavoli e per questo motivo viene diciamo lo insultano per strada ogni volta che lo vedono nessuno gli gli da da mangiare nessuno lo saluta nessuno vuole avere niente a che fare con lui a un certo punto è costretto ad abbandonare diciamo ad andarsene per per poter per poter sopravvivere e quindi diciamo la lotta era le forme di lotta create da questa serie di organizzazioni politiche dei che rappresentavano diciamo gli interessi della piccola proprietà fondiaria o dei fittavoli si si manifestano in questa forma in queste forme anche estreme e che durano molti molti anni e fino ad arrivare alla conquista di una serie di riforme agrarie che sostanzialmente assecondano le rivendicazioni principali del movimento le famose 3f cioè fair rent quindi un affitto equo free sale e la possibilità di rivendere i diritti sulla terra che avevano anche i fittavoli per un'antica tradizione irlandese e infine la la fissità del dell'allocazione cioè la il divieto di disfratto dei fittavoli se non abbiamo in particolare condizioni queste nuove queste riforme diciamo cambiano la i rapporti di forza nelle campagne e lo stato permette l'acquisto di terra e favorisce l'acquisto di terreni dal latifondo alla piccola proprietà contadina e in questa maniera viene cambiato il panorama sociale del delle campagne irlandesi in quegli anni di servizio militare condoli sviluppo una certa consapevolezza su sulla situazione dell'irlanda che lo fa gli far fare dei ragionamenti importanti sulla questione agricola e agraria irlandese sostanzialmente condoli nel frattempo viene sarebbe stato mandato in india se avesse seguito la compagnia il battaglione in cui era era reclutato ma diserta e se ne torna in scozia dove tra l'altro si sposa e a fine secolo scrive i suoi primi testi socialisti che ci sono che sono arrivati fino a noi in cui spesso parla della questione agricola e spiega come le riforme agrarie hanno in qualche modo avendo tutto spiega come la storia del conflitto tra l'irlanda e l'inghilterra è legata al conflitto fra due forme di proprietà terriera contrapposte cioè mentre la proprietà tradizionale irlandese quella del sistema dei clan che in irlanda una specie di clan ma che in irlanda vengono chiamati sept era una forma di proprietà collettiva mentre i sassoni introducono con l'occupazione dalla gran bretagna introducono la la proprietà privata delle terre e questo conflitto diciamo non si non si risolve e arriva fino ai giorni nostri e diciamo si trasforma nella questione nazionale irlandese e secondo connelli le riforme agrarie hanno anche diciamo indebolendo e poi di fatto abolendo il latifondo non hanno risolto il problema dei contadini specialmente dei contadini più poveri perché se è vero che hanno creato uno strato di contadini benestanti che hanno approfittato di queste riforme per diventare diciamo i capitalisti delle campagne al tempo stesso creato uno strato di contadini poveri che se prima erano sfruttati dal latifondisti oggi sono sfruttati dalle banche a cui devono continuamente chiedere soldi sia per acquistare inizialmente il loro pezzamento di terra perché le riforme agrarie non espropriano il latifondo ma diciamo favoriscono la vendita del latifondo in piccoli pezzamenti e in seguito proprio per la retratezza delle campagne irlandesi con questi piccoli pezzamenti non sono in grado di reggere la concorrenza che viene specialmente dall'agricoltura dice connelli australiana e nord americana e quindi sono continuamente ributtati sotto la soglia di sussistenza devono indebitarsi e quindi diciamo sostituiscono la loro dipendenza dal latifondo con una dipendenza più subdola dalle banche quindi dal capitale finanziario e dal e dalla proprietà dalla media proprietà agricola e quindi diciamo il capitale agricolo ma di fatto già con metodi quasi industriali ora secondo connelli è possibile fare appello a questi a questo strato di piccoli contadini anche da parte di una posizione socialista cioè non bisogna avere paura della piccola proprietà come una come se fosse un blocco reazionario ma bisogna fargli capire che l'unica salvezza la possono trovare nella rottura dei rapporti di produzione capitalistici e nel socialismo perché con la cooperazione fra fra piccoli proprietari favorita dalla proprietà nazionalizzata della terra e sarebbe possibile importare le tecnologie più avanzate dell'agricoltura dai paesi concorrenti sviluppare quelle quello diciamo quella meccanizzazione dell'agricoltura che non è possibile alla picca ai piccoli contadini e distribuire diciamo il lavoro agricolo in maniera più equa quindi rompere i meccanismi di sfruttamento una volta per tutte e in questo secondo connelli è possibile far capire al contadino nonostante la sua tendente tendenziale mentalità individualista il modo di ragionare dell'operaio di fabbrica socialista perché la stessa logica che diciamo si potrebbe applicare nella nelle campagne con la con la nazionalizzazione delle terre è quella che i socialisti rivendicano nell'industria con una nazionalizzazione sotto il controllo dei lavoratori della delle fabbriche delle officine e diremo oggi noi degli uffici chiaramente ai tempi ai tempi di connelli il settore terziario era molto meno sviluppato anzi in realtà lo stesso settore industriale era concentrato in poche in poche città della dell'irlanda lo la questione dell'alleanza fra piccoli contadini e e proletariato industriale è riecheggia lo stesso discorso che facevano leni in troschi quelli che poi diventeranno i bolshevichi in russia dove pure c'era la stessa retorica che diceva che non era possibile lo sviluppo del socialismo in quanto si trattava di un paese fondamentalmente contadino in realtà appunto il tema viene analizzato con molta più profondità da questi pensatori marxisti che comprendono come la chiave della della soluzione vera della questione agraria in in paesi di quel tipo poteva venire proprio dall'alleanza fra lo strato basso della classe contadina con il proletariato e quindi in qualche modo assegnavano al proletariato industriale il compito di portare fino in fondo quelle riforme agrarie che erano state o non erano state fatte o erano state fatte in alcuni paesi come l'irlanda in una forma che avvantaggiava semplicemente la lo sviluppo di un capitalismo nazionale non è un caso che queste questo e questa classe diciamo privilegiata delle campagne sia poi la base sociale del nazionalismo irlandese piccolo borghese cioè di tutta una fascia di nazionalisti che separavano totalmente la questione nazionale dalla questione sociale cioè che vedevano la la rivendicazione di un'indipendenza nazionale dell'irlanda essenzialmente come un modo per consolidare dei rapporti di proprietà capitalistici e quindi per fare i propri i propri stessi interessi ignorando diciamo tutti gli strati sociali che stavano sotto di loro quindi nelle campagne i contadini poveri e nelle città la classe operaia industriale james connelly ha militato nella sinistra rivoluzionaria di tre diversi paesi i tre paesi tipici della della vita irlandese di di quegli anni l'irlanda stessa naturalmente la gran bretagna in particolare la scozia e gli stati uniti allora in scozia già alla fine dell'ottocento connelly e suo fratello john e james e john connelly entrano in contatto con la federazione socialista scozzese che era un'organizzazione che poi si legò con la federazione socialdemocratica uno dei principali partiti socialisti diciamo in qualche modo legati al o influenzati dal marxismo che c'erano in quegli anni in gran bretagna stiamo parlando degli anni in cui ancora non esisteva il partito laburista diventa segretario di questa organizzazione nel 1895 continua a fare politica anche in scozia negli anni successivi e parteciperà nel 1903 alla fondazione dell'SLP che si ispirava alle politiche del dirigente marxista statunitense daniel de leon a cui vedremo che appunto connelly si era si era avvicinato quando era emigrato negli stati uniti quindi questo diciamo è la sua percorso in scozia ma nel 1896 dopo essersi trasferito a dublino grazie a una proposta di lavoro in un club socialista della capitale irlandese connelly decide di trasformare questo club in un partito politico vero e proprio che resterà sempre molto piccolo ma che ha avuto un ruolo importante riconosciuto da tutta la sinistra irlandese nel portare in irlanda il diciamo le idee repubblicane socialiste il partito infatti si chiama partito socialista repubblicano irlandese irsp nella sigla in inglese è interessante leggere il suo programma che esce nel 1896 che probabilmente è stato scritto da connelly stesso ci sono dieci rivendicazioni a un certo punto leggiamole velocemente la nazionalizzazione delle linee ferroviarie e dei canali l'abolizione delle banche private delle istituzioni finanziarie e l'istituzione di banche statali sotto delle dei consigli di amministrazione eletti democraticamente che diano diciamo dei prestiti senza interesse l'istituzione a spese pubbliche di depositi rurali per di macchinari avanzati per l'agricoltura da prestare alla popolazione agricola a un affitto che copra soltanto i costi di gestione e di produzione quarto punto una tassa progressiva sul reddito su tutti i redditi sopra una certa soglia per finanziare pensioni per gli anziani gli infermi le vedove e gli orfani quinto punto restrizione per legge delle ore di lavoro a 48 alla settimana all'epoca questa era una buona era una buona rivendicazione e istituzione di un salario minimo sesto punto mantenimento gratuito di tutti i bambini questo è un grosso problema perché c'era una questione molto seria di malnutrizione infantili nei ceti popolari sia urbani che rurali in quegli anni settimo punto estensione graduale questo è un punto essenziale perché in pratica vuol dire socialismo del principio estensione graduale del principio della proprietà pubblica e della fornitura pubblica a tutte le necessità della vita ottavo punto controllo pubblico e gestione pubblica di scuole nazionali da consigli eletti per voto popolare nono punto educazione gratuita fino ai più alti gradi universitari immaginatevi proporre questo nel 1896 cose che ancora oggi ci sogniamo in italia decimo punto suffragio universale in questo manifesto del partito socialista repubblicano si spiega che la la soggezione di una nazione a un'altra qui vado proprio a citare come quella dell'irlanda all'autorità della della corona britannica è una barriera al libero sviluppo politico ed economico della nazione soggetta e può soltanto servire gli interessi delle classi sfruttatrici di entrambe le nazioni è molto interessante questo passaggio perché conno li vede subito nella borghesia irlandese non un possibile alleato nella lotta per l'emancipazione ma in realtà un nemico anche quando questa borghesia diciamo si ammanta della bandiera verde del del diciamo dei colori del nazionalismo irlandese e di conseguenza dice la libertà economica e nazionale del popolo irlandese deve essere cercata nella stessa direzione ovvero nell'instaurazione di una repubblica socialista irlandese e nella conseguente conversione dei tutti i mezzi di produzione distribuzione e scambio nella proprietà comune di tutta la società mantenute controllata da uno stato democratico negli interessi dell'intera comunità quindi vediamo una concezione di diciamo democrazia operaia già diciamo alle fondamenta dell'idea del socialismo repubblicano irlandese questa concezione diciamo cercava di distanziare il socialismo repubblicano sia dalle posizioni dei cosiddetti home rulers cioè di quei sostenitori della home rule ovvero della dell'autogoverno irlandese all'interno però di una diciamo della dell'impero britannico e del regno unito così come dagli indipendentisti irlandesi piccolo borghesi che vedevano la questione nazionale a sé stante è chiaro l'intento diciamo da parte di di connelly in tutte le polemiche di quegli anni di spiegare esattamente la sua posizione e per esempio cerca di dire che la necessità cioè per quanto diciamo i socialisti irlandesi non vedano una questione diciamo di animosità nazionale di odio anti inglese alla base della loro richiesta di indipendenza sono altrettanto focosi che che i più accesi nazionalisti irlandesi nel chiedere la separazione o perlomeno il diritto di separazione se diciamo il popolo lo vorrà dell'irlanda dalla gran bretagna per il per il motivo che inevitabilmente la soggezione dell'irlanda la gran bretagna è una soggezione dell'irlanda al capitalismo britannico non è possibile un'emancipazione del della classe operaia e dei centri popolari irlandesi dal capitalismo senza contestualmente liberarsi dalla dominazione britannica che è diciamo che garantisce gli interessi della classe proprietaria c'è anche un'analisi interessante che viene fatta da connelly del ruolo diciamo degli del ceto unionista irlandese molto forte nella nell'irlanda del nord ma presente in in quegli anni in tutta in tutta l'isola come diciamo il frutto avvelenato della dominazione sassone per cui questa dominazione ha creato uno strato privilegiato protestante che vede nel protestantesimo l'espressione ideologica della sua dei suoi interessi di classe quindi della sua diciamo della della necessità dell'ordine capi oggi capitalista ma diciamo precedentemente monarchico assolutista nel in irlanda e spiega in un passaggio interessante come mentre il cattolicesimo in molti paesi dell'europa continentale è una forza conservatrice tipicamente e diciamo la riforma protestante le varie le varie le chiese protestanti spesso si legano a una concezione se non rivoluzionaria per lo meno diciamo antimonarchica o comunque di opposizione alle forze tradizionali la situazione era perfettamente invertita in irlanda dove in qualche modo i ceti popolari vedevano nel cattolicesimo una una bandiera per quanto diciamo ovviamente inadatta diciamo noi da socialisti e da comunisti ma in qualche modo l'unica bandiera che avevano per opporsi al al dominio sia straniero sia diciamo del dei dei ceti ambienti che in qualche modo erano succubi della o complici della della gran britannia nell'irlanda stessa e viceversa il protestantesimo è dice connelly tory ism cioè conservatorismo nel senso del partito conservatore britannico all'interno dell'irlanda e quindi diciamo diventa una bandiera dell'odio contro i ceti popolari ovviamente però la questione si complica perché anche lavoratori contadini specialmente nell'irlanda nel nord per motivi tradizionali appartengono alla alla confessione protestante spesso perché sono discendenti dei coloni mandati dalla dall'inghilterra e dalla scozia e per questo motivo diciamo c'è questa divisione etnico confessionale che lacera come sappiamo il tessuto specialmente dell'alster dell'iranda nel nord e che in qualche modo i socialisti devono trovare il modo di scavalcare con con l'unità di classe nel 1903 anche sulla base del fatto che il partito socialista repubblicano irlandese non ha uno sviluppo come connelly aveva sperato connelly emigra negli stati uniti come hanno fatto in quegli anni tantissimi lavoratori irlandesi si lega inizialmente all slpa cioè al partito socialista laborista d'america che era appunto guidato da daniel de leon dirigente con cui avrà una rottura politica importante che lo condurrà poi a passare il partito socialista d'america quindi spa quando questo viene fondato alcuni anni dopo enter e sempre in quegli anni partecipa si iscrive all industrial workers of the world i wobblies una organizzazione diciamo vicino sindacale vicina alla narco sindacalismo al sindacalismo sorelliano molto dinamica e molto attiva la cui storia è estremamente interessante e fonda a new york e poi riuscirà a espandere questa organizzazione in altre realtà la federazione socialista irlandese che in qualche modo raccoglieva dei lavoratori di nazionalità irlandese in america negli stati uniti il movimento operaio in quegli anni era ancora fortemente diviso su basi su linee linguistiche o nazionali è interessante la polemica fra la controversia fra de leon e connelly perché è gravida diciamo di insegnamenti sulle posizioni di connelly i temi su cui si sviluppa questa controversia sono tre il più interessante è quello degli aumenti salariali connelly contesta al partito di de leon e poi diciamo dopo la risposta di de leon a de leon stesso una posizione antimarxista rispetto agli aumenti salariali ovvero questi ultimi sostenevano che fosse impossibile ottenere stabilmente degli degli aumenti salariali con la lotta sindacale sotto il capitalismo perché l'inflazione avrebbe immediatamente mangiato tutti i guadagni salariali perché in qualche modo il livello dei prezzi dipende dal livello dei salari secondo questi teorici del del partito socialista de leonista laborista americano in questo dibattito quando rimostra una grande competenza di economia marxista e facendo anche riferimento al testo di marx salario prezzo e profitto spiega che non è assolutamente così che in realtà appunto è possibile conquistare degli aumenti salariali quello che è vero è che questi aumenti salariali non sono garantiti sotto il capitalismo nel senso che i padroni cercheranno sistematicamente di di riconquistarli e è interessante questa disputa perché si vedono gli elementi diciamo di estremismo sindacale e politico del di de leone dei suoi seguaci nel diciamo negare in buona sostanza qualunque ruolo al ai rapporti di forza fra le classi che si conquistano sotto il capitalismo e quindi la necessità sostanzialmente di fare socialismo subito come soluzione a qualunque problema della classe ovviamente questo aveva delle conseguenze anche nella linea nella linea politica e col senno di poi diciamo diventa molto difficile sostenere la posizione di de leono oggi perché sostanzialmente lui dice che non sarebbe stato possibile conquistare nessun aumento salariale allora è evidente che i salari reali dei lavoratori americani sono cresciuti enormemente nel 2020 rispetto alla fine alla fine dell'ottocento quindi aveva sicuramente ragione connelli e connelli giustamente dice queste posizioni rendano in qualche modo superfluo ogni forma di organizzazione sindacale quindi non capisco perché a questo punto il partito socialista laborista americano ha una sua branca sindacale la domanda in effetti era era più che lecita gli altri due temi su cui c'è uno scontro sono molto diversi sono il tema diciamo della del matrimonio sono in qualche modo collegati il tema del matrimonio e della e della 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 propaganda contro la religione secondo connelli de leone i suoi seguaci esageravano nella propaganda antireligiosa di fatto conducendo questa propaganda in una forma simile a quella diciamo dei massoni dei liberi pensatori degli atei borghesi quindi diciamo con argomentazioni luministe per esempio secondo connelli quando c'era uno sconto quando diciamo c'era veniva criticato non so io una posizione del vaticano si andava a parlare male non so io dei miracoli spiegando che i miracoli sono impossibili con argomentazioni che di fatto scendono sul terreno della fede e che ricalcano diciamo i mangiapreti liberali più che non una posizione socialista la posizione marxista vede la religione come una conseguenza dell'oppressione in cui vivono i ceti subalterni e in qualche modo non come un'invenzione un imbroglio cosciente fatto dai dai preti e soprattutto vedono il capitalismo e l'oppressione di classe come il problema principale e in qualche modo le gerarchie religiose come eventualmente uno strumento di questa di questa oppressione e delle classi dominante e non viceversa come invece pensano gli anarchici o gli illuministi liberali diciamo la chiesa come il problema principale e il potere politico come una o uno dei problemi principali e il potere politico quasi addirittura come un'emanazione del potere religioso chiaramente dietro questa polemica dove pure bisogna riconoscere che connelli forse a volte abbia abbia fine esagerato dal lato opposto è chiaro vediamo il forte interesse di connelli nel riuscire a mantenere un contatto con i ceti popolari ora è chiaro che in irlanda il peso della questione religiosa non è molto grossa e quindi quello che diceva connelli sostanza era se pensiamo di convincere un lavoratore cattolico irlandese andandogli a fare la prova che il miracolo diciamo noi in italia di san gennaro per esempio è un imbroglio non convinceremo nessuno invece dobbiamo semmai mettere in luce le contraddizioni politiche del vaticano l'incoerenza delle gerarchie religiose e in qualche modo permettere a un lavoratore cattolico di unirsi al movimento socialista anche senza diciamo abbandonare la propria fede e su questo tema diciamo è interessante perché si dimostra è un tema ricorrente il tema della questione religiosa e di come affrontarla si dimostra una grande capacità tattica di connelli e diciamo un'attenzione nel cogliere senza fare concessioni diciamo alla alle posizioni politiche della del vaticano e dei suoi emissari che nel caso dell'irlanda erano particolarmente pericolose per i socialisti perché ovviamente il vaticano non perdeva occasione per attaccare il socialismo e utilizzare i pregiudizi religiosi contro il movimento socialista però al tempo stesso utilizzarli utilizzare in maniera intelligente queste contraddizioni senza diciamo far passare senza diciamo auto auto mettersi all'angolo sul tema del matrimonio c'era un dibattito un dibattito simile cioè anche lì diciamo connelli sosteneva che non fosse necessario fare una diciamo prendere una posizione sulla questione del matrimonio diciamo del matrimonio monogamo opponendosi al matrimonio monogamo predicando il libero amore specialmente in un contesto in cui evidentemente nel capitalismo ci sono delle questioni economiche dietro alla questione matrimoniale e all'oppressione delle donne entro il contesto matrimoniale. Questa polemica appunto resta martigoni di interessante e ci fa vedere la barra tenuta da Connolly in quegli anni nel tentativo appunto di separare il nazionalismo tipicamente cattolico irlandese dalle grinfie della piccola e grande borghesia irlandese e diciamo dare un'espressione socialista a questo a questo a questo nazionalismo spiegando per esempio c'è una famosa citazione dove dice se anche noi riuscissimo a togliere la bandiera union jack la bandiera britannica dal castello di dublino a mettersi al suo posto la bandiera verde con con l'arpa senza corona continuerebbe il grande capitale britannico a dominarci senza bisogno di utilizzare il dominio diretto politico ma attraverso le banche attraverso i rapporti commerciali attraverso diciamo quello che poi Lenin chiamerà l'imperialismo e quindi appunto una vera indipendenza nazionale in qualche modo è possibile soltanto in forma socialista. Nel 1910 Connolly torna in Irlanda e lì si lega a un importante sindacalista repubblicano e socialista di nome James Larkin. James Larkin era un irlandese di Liverpool anche lui come Connolly nato quindi in Gran Bretagna ed era stato diciamo l'organizzatore del movimento operaio irlandese partendo dai portuali di Belfast. all'epoca i sindacati non erano riconosciuti e larkin introduce delle nuove modalità di lotta di classe che erano fino a quel momento sconosciute in Irlanda. Scioperi naturalmente scioperi di solidarietà che notate bene sono tuttora proibiti nel Regno Unito quindi scioperi di altre aziende non quelle direttamente coinvolte dalla disputa e anche forme di boicottaggio dei prodotti quindi vediamo che le tradizioni della guerra agraria in qualche modo si trasformano e vengono acquisite dal movimento operaio. Queste lotte hanno dei alti e bassi però ottengono diversi successi ma creano subito delle tensioni con la burocrazia sindacali e riformiste fino al punto che in qualche modo non abituate a dei rapporti sindacali molto più tranquilli con la controparte. A questo punto larkin rompe con queste organizzazioni e cioè essenzialmente con il sindacalismo tradizionale britannico e fonda un nuovo sindacato nel 1909 l'ITGVU cioè Irish Transport and General Workers Union sindacato irlandese dei lavoratori del trasporto e generali quindi in sostanza partendo dalla logistica in particolare della logistica portuale poi si cerca di espandersi ad altri settori. Larkin e Connolly nel 12 fondano un nuovo partito che è il partito laborista irlandese che esiste tuttora anche se si è spostato molto a destra rispetto a quei tempi purtroppo come diciamo braccio politico di queste nuove organizzazioni sindacali irlandesi. Un terreno di prova dopo il successo dello sciopero al porto di Sligo nel 1913 è Dublino dove larkin e Connolly cercano di organizzare la sindacalizzazione di due aziende una è la Guinness che tutti conosciamo dove però il tentativo non riesce e l'altra è la società di tram della città che era guidata da un padrone particolarmente reazionario di nome William Martin Murphy. Al tentativo di sindacalizzazione dei suoi lavoratori Murphy reagisce con una serie di licenziamenti politici e quindi centinaia di lavoratori degli autotrasporti pubblici pubblici cioè di proprietà privata però diciamo trasporto pubblico locale di Dublino vengono licenziati per essi iscritti all'IDGW e non solo diciamo vedendo che i lavoratori non accettano neanche gli altri lavoratori accettano di firmare se non qualcuno una un diciamo una promessa un impegno a non iscriversi a nessun sindacato in particolare non iscriversi al sindacato di larkin Murphy regisce con la serrata cioè chiude l'azienda lasciando senza lavoro e senza stipendio tutti tutti i dipendenti non solo lancia fra gli industriali di Dublino molto preoccupati da questi sviluppi che capivano che i prossimi sarebbero stati loro una delle serrate di solidarietà in simmetricamente diciamo la tattica di larkin degli scioperi di solidarietà quindi invitano altre aziende a bloccare la produzione sospendere il pagamento degli stipendi finché diciamo non si fosse riusciti a piegare i lavoratori e in particolare il sindacato di larkin questo chiaramente mette larkin e connelli sotto un'enorme pressione perché vengono visti come responsabili della della fame di migliaia di famiglie di Dublino centinaia di imprenditori se vogliamo di prenditori se si uniscono a questa serrata che mette in ginocchio diciamo la classe operaia di Dublino quindi diciamo lo sciopero diventa in realtà uno sciopero dal lato dei padroni la Guinness non partecipa alla serrata ma finanzia comunque diciamo il comitato di serrata padronale guidato da Murphy il addirittura vengono organizzati talmente dalla situazione talmente la grave la situazione perché poi questa serrata durerà sette mesi anticipo quindi immaginatevi migliaia e migliaia di famiglie senza stipendio per sette mesi al punto che vengono organizzati delle sorte di adozioni temporanee dei bambini delle famiglie degli scioperanti o dei serrati diciamo per da parte del sindacato britannico la chiesa cattolica si oppone a questa misura dicendo che sarebbe stato un modo per far influenzare i bambini cattolici dal dalle idee protestanti anglicane e la chiesa di fatto si schiererà sempre dalla parte dei padroni così come i partiti diciamo liberali compresi quelli nazionalisti irlandesi infatti scrive una quando poi verrà arrestato larkin adesso vediamo in seguito a quale vicenda rocambolesca connelly scrive un articolo come far rilasciare james larkin cosa che in effetti qualche a novembre poi avviene dove essenzialmente dice bisogna rompere ogni rapporto con i liberali perché i liberali in quel momento c'era un governo liberale cioè diciamo nella politica dell'epoca di centro-sinistra a londra anche se non sono conservatori anche se diciamo siamo abituati a vederli come meno cattivi il meno peggio di fatto sono loro in questo momento che stanno permettendo agli industriali di dublino di affamare la classe operaia quindi dobbiamo rompere questo rapporto nefasto fra il movimento operaio e il partito liberale o i vari partiti liberali complesi quelli dell'home rule in cioè gli autonomisti diciamo in irlanda cosa perché era stato arrestato james larkin perché il 31 agosto 1913 travestito con barba finta e spacciandosi per un parente di murphy penetra nella nell'imperial hotel di proprietà di murphy e fa un discorso da un balcone a una folla che si era sembrata lì sotto di centinaia di persone questa era una mossa diciamo sarcastica in risposta alla proibizione di un comizio che la polizia di dublino aveva imposto per il giorno stesso questa manifestazione viene sciolta con la forza dalla polizia ci sono degli scontri molto duri un sacco di manganellate centinaia di feriti e addirittura due sindacalisti uccisi quello diciamo passerà la storia come il bloody sunday anche se poi sappiamo che ce ne sono c'è ne sono c'è ne sono c'è stato almeno un altro in irlanda e in realtà ce n'era già stato uno di sab di domenica sanguinosa ce n'era già stata una in russia nel 1905 di cui pure con lì ha scritto e in conseguenza di questo atto di violenza con lì e altri decidono di formare una milizia operaia repubblicana e socialista per difendersi dalla polizia questa milizia inizialmente è armata soltanto di armi diciamo di bastoni sostanzialmente o di o di addirittura di bastoni sportivi e si chiamerà irish citizen army esercito cittadino irlandese ma nasce con una nonostante il nome nasce con una forte connotazione socialista arriverà a raccogliere 200 250 lavoratori armati la serrata si chiude nel 1914 quindi finisce addirittura l'anno immaginatevi che bel natale hanno passato quelle famiglie con una sconfitta del movimento sindacale in realtà perché quando l'arkin chiede alla tuc cioè alla centrale alla confederazione sindacale britannica in gran bretagna di fare degli scioperi di solidarietà nonostante la tuc in qualche modo avesse appoggiato questi scioperi non accetta una mossa così radicale considerate appunto che all'epoca gli scioperi erano di solidarietà erano proibitissimi tant'è che lo sono tuttora in gran bretagna e questo tradimento diciamo questo rifiuto di estendere la lotta al anche diciamo nell'altra isola fa fallire il movimento si deve scendere a un compromesso anche con l'utilizzo di molti di molti crumiri i padroni di dublino hanno piegato i lavoratori ma è una vittoria di pirro perché questa vittoria non riesce a padronale comunque sia un costo talmente grosso a una tale distruzione del commercio dell'industria irlandese che i padroni non cercheranno mai più di fare serrate e di fatto nonostante l'oggetto del conflitto fosse impedire ai lavoratori di sindacalizzarsi l'idea che si possono sindacalizzare nei fatti si impone infatti negli anni successivi abbiamo una sindacalizzazione crescente dei lavoratori e la stessa itgvu poi riesce ad aumentare i propri iscritti anche rispetto all'anno della serrata. Ora questa esperienza è traumatica per l'Arkin che lascia l'Irlanda e se ne va negli Stati Uniti ma lascia un'idea importante nella mente di Connolly che poi viene esplicitata in diversi articoli cioè il fatto che la solidarietà di classe fra lavoratori britannici e lavoratori irlandesi era essenziale perché è proprio per la mancanza di questa che si è avuto il fallimento di quella di quella lotta ma al tempo stesso questa solidarietà non può avvenire sotto una forma di una sorta di attesa messianica da parte dei lavoratori irlandesi che si muovono i lavoratori britannici ma deve in qualche maniera contemplare anche la possibilità che sia necessario cominciare a muoversi nell'anello più debole della catena dell'imperialismo britannico e cioè proprio in Irlanda o anche nei paesi delle colonie extraeuropee infatti parla Connolly anche delle rivolte che inevitabilmente arriveranno in India poi sappiamo che nei decenni successivi queste rivolte porteranno addirittura all'indipendenza e in qualche modo dice simpatizza con queste rivolte dicendo noi irlandesi dobbiamo vedere agli altri popoli che che lottano contro il gioco britannico come dei fratelli di lotta e la creazione dell'irish citizen army diventerà fondamentale nello sviluppo successivi perché Connolly a questo punto ha a sua disposizione una milizia operaia che può diciamo ambire a essere uno strumento di lotta per il tentativo di formare una repubblica socialista irlandese siamo arrivati alla parte finale della vita di Connolly la fondazione dell'irish citizen army avviene in un periodo particolarmente turbolento anche fuori dal fronte sindacale perché nei mesi prima era stata fondata l'organizzazione la forza dei volontari dell'ulster cioè dell'irlanda del nord una forza unionista quindi di sostenitori della corona britannica perché una delle ultime leggi di home rule era stata approvata nel 1912 in qualche modo garantendo dei margini di autogoverno all'irlanda all'interno del regno unito e diciamo in protesta contro questo quello che veniva visto come un rischio di predominio cattolico i protestanti di destra dell'ulster si erano armati questa sorta di di bande se vogliamo protofasciste o fasciste antelitteram in risposta a questa a questa mossa i repubblicani irlandesi avevano formato i volontari irlandesi che poi diventeranno l'ira diciamo nel tutti gli sviluppi successivi quindi abbiamo c'erano delle forze nazionaliste piccolo borghesi che armate c'erano queste forze razionarie e in seguito alla serrata di dublino sorge anche questo iris citizen army quindi icca che il la forza diciamo che rappresenta il socialismo repubblicano il in quegli anni e in quei mesi si sta preparando la prima guerra mondiale prima guerra mondiale in cui l'irlanda si trova quindi trascinata dalla gran bretagna a combattere per un impero di cui era in qualche modo una parte oppressa chiaramente questo era visto molto male da una parte consistente di nazionalisti irlandesi alcuni dei quali addirittura cercarono degli accordi con lo stato maggiore tedesco per diciamo insorgere contro contro la gran bretagna in generale diciamo la coscrizione la guerra la ruolamento a volte anche volontario ma spinto diciamo dalla fame di molti giovani irlandesi per combattere per l'inghilterra in buona sostanza nella prima guerra mondiale suscitano un enorme malcontento popolare che sia i nazionalisti irlandesi piccolo borghesi sia james connelly pensa di poter diciamo intercettare con un appello alla rivolta contro la il dominio britannico connelly è uno di quei socialisti europei che da subito prende una posizione anti imperialista rispetto alla guerra alla prima guerra mondiale mentre tutti i partiti socialisti d'europa con scarse eccezioni fra cui la più importante è il prezzo socialista russo poi c'è quello serbo e con molta ambiguità quello italiano si schiera invece contro diciamo appunto mentre la maggior parte dei partiti appoggiano le rispettive borghesie nella guerra imperialista del 14-18 connelly è uno di quelli che dice noi internazionalisti dobbiamo fare fronte comune e opporci alla guerra imperialista quindi ciascuno opporsi alla propria borghesia e diciamo rifiutare l'invio delle forze diciamo dei giovani proletari sul fronte per combattere una guerra che non è la loro questo naturalmente in irlanda mescola una questione di classe con una questione nazionale sulla base di questa contraddizione l'irish citizen army lancia un appello all'insurrezione dicendo se gli altri partiti repubblicani indipendentisti non si muovono lo faremo noi perché bisogna proclamare una repubblica socialista irlandese i volontari irlandesi quindi repubblicani diciamo piccolo borghesi si allarmano di fronte a questo annuncio e contattano connelly per dirgli no guarda stiamo già pensandoci noi unisciti alla nostra insurrezione quella che poi sarà nota come l'insurrezione di pasqua stiamo parlando della pasqua del 1916 allora un progetto insurrezionale che tra l'altro aveva diversi diciamo difetti tattici ma che comunque aveva diciamo l'obiettivo di innescare un'insurrezione anti-britannica in irlanda viene quindi congegnato per il 24 aprile 1916 il giorno di pasqua la città principale di questa insurrezione doveva essere dublino è interessante notare negli scritti di di connelly di quegli anni una forte attenzione alle questioni tattiche dell'insurrezione c'è anche uno studio approfondito delle tecniche di guerra insurrezionale in vari paesi in vari momenti della storia che connelly e un altro autore mandano fanno leggere ai volontari dell'esercito cittadino irlandese dove viene studiata per esempio anche l'insurrezione di mosca del 1905 e il in questi in questi anni diciamo la polemica di connelly contro la guerra imperialista si salda diciamo alla preparazione di questo movimento insurrezionale e tra l'altro è anche molto interessante leggere la valutazione che fa connelly del rischio di partizione dell'irlanda rischio che era già evidente in quegli anni e che contro il quale diciamo si schiera molto duramente dicendo c'è un pezzo veramente veramente come si dice profetico scritto da connelly dove in buona sostanza si preannuncia quello che sarebbe effettivamente successo con con la partizione e ossia dice uno schema del genere come quello a cui sono arrivati due politici dell'epoca redmond e devlin il tradimento della democrazia nazionale dell'alster industriale perché è la parte più industrializzata del paese quindi dove c'era il corso della classe operaia significherebbe un carnevale di reazione sia a nord che a sud sia diciamo nella parte la maggioranza protestante che quella maggioranza cattolica dell'isola riporterebbe indietro le ruote del progresso distruggerebbe la nascente unità del movimento operaio irlandese e paralizzerebbe tutti i movimenti avanzati finché restasse in vigore è proprio quello che poi è successo con la partizione dell'irlanda che è il motivo per cui londra ha sempre soffiato sul fuoco della divisione etnico confessionale tra protestanti e cattolici in irlanda nel nord a questa ipotesi che dice sempre condoli il movimento operaio deve dare la sua posizione più più aspra contro di essa il movimento operaio o la sinistra se vogliamo labor dice lui in iran del nord deve combattere anche fino alla morte se necessario così come i nostri padri hanno combattuto prima di noi l'idea della partizione dell'irlanda contraddiceva tutta la logica della liberazione nazionale e sociale irlandese e creava una divisione all'interno della classe operaia che poteva essere estremamente pericolosa e questo è proprio quello che poi purtroppo è successo ora non scendo nei dettagli dell'insurrezione di Pasqua se non per dire che l'insurrezione coinvolge la città in maniera importante dura alcuni giorni ma viene schiacciata nel sangue dall'esercito britannico con la collaborazione anche diciamo dei nazionalisti moderati irlandesi qualcosa che vedremo ripetersi varie volte nella storia dell'irlanda in cui diciamo la Gran Bretagna ha sempre potuto contare su qualche volenteroso suo amico anche nel fronte diciamo indipendentista o autonomista Connolly viene catturato viene portato viene incarcerato e viene giustiziato in maniera anche piuttosto barbara legato a una sedia e fucilato e poi buttato in una fossa comune insieme agli altri leader della protesta pochi giorni dopo era stato il comandante in capo della guarnigione di Dublino di queste insurrezioni insurrezione che avrà comunque un effetto molto grosso perché proclamerà anche se poi non riuscirà in realtà a costruirla la repubblica irlandese e diciamo da questa insurrezione poi deriva tutti gli eventi dei decenni successivi che poi condurranno all'indipendenza dell'irlanda è interessante dal nostro punto di vista studiare Connolly perché Connolly rappresenta un caso molto interessante di studio della della dell'intreccio fra questione nazionale e rivoluzione socialista in un paese europeo questo studio è molto acuto e riflette o meglio non riflette perché non penso che si che si che si siano letti a vicenda però diciamo riecheggia in maniera molto stretta alcune delle delle riflessioni di troschi sulla rivoluzione permanente sulla necessità che i compiti della che tradizionalmente sono associati assegnati alla alla rivoluzione borghese fra cui appunto l'indipendenza nazionale la risoluzione della questione agraria in molti paesi soggetti al dominio dell'imperialismo che sono arrivati tardi sul terreno delle rivoluzioni borghesi sono compiti che si ritrovano a dover affrontare il proletariato e i contadini poveri e quindi diventano compiti della rivoluzione permanente di una rivoluzione che ha diciamo è socialista ma porta con sé anche gli scopi e i compiti della rivoluzione della rivoluzione democratico borghese questa riflessione estremamente importante e ed è grazie a connelli che nel movimento repubblicano irlandese con tutte le sue vicissitudini e con le stravolgimenti che poi ha avuto nei decenni successivi ci sia sempre stato un filone repubblicano socialista che è quello a cui noi come marxisti guardiamo con interesse perché pensiamo che sia stato anche dimostrato poi dalla storia successiva dell'irlanda non ci possa essere un'effettiva liberazione che sia puramente nazionale senza diciamo che la lotta di classe e diciamo l'emancipazione della classe operaia entrino come fattore dell'equazione viceversa non crediamo che sia possibile organizzare una lotta rivoluzionaria in paesi come l'irlanda in paesi diciamo dove c'è una forte questione nazionale senza che i rivoluzionari si pongano il tema della di come diciamo interfacciarsi con la questione nazionale e con la lotta per l'indipendenza. Questo studio e questa lotte di Connelli ci lasciano oltre che una memoria di un eroe e il ricordo di un eroe e di un martire della classe operaia del movimento rivoluzionario un patrimonio molto grande di testi veramente interessanti purtroppo molto poco conosciuti nel nostro paese che meritano di essere di essere studiati per chi per chi legge l'inglese e probabilmente anche tradotti. Come tendenza marxista internazionale noi rivendichiamo molto della diciamo di questa di questa tradizione e di questo patrimonio e lo vogliamo far rivivere nella lotta internazionale per il socialismo e per la liberazione della classe operaia che è l'unica via per la liberazione universale dell'intera umanità. Grazie.